Presidente Emiliano, a Taranto l'oggetto del contendere purtroppo è la questione Ilva. Un dramma davvero, perché poi è antipatico che si vada a ribaltare, a rimpallare la patata bollente quando parliamo di vite umane, della difesa della vita umana. Che idea si sta facendo di questo contratto di governo? Sembra che con la Lega non è che ci siano tante possibilità di chiusura o di riconversione, forse i 5 Stelle sognavano realtà che poi all'atto pratico, visto il partner, la realizzazione risulta difficile. Io ho sempre detto che le decisioni strategiche su fabbriche di quel livello spettano ai governi. Il governo precedente aveva deciso di far funzionare la fabbrica, di tenerla aperta e quindi in spirito di leale collaborazione avevo detto che per far funzionare quella fabbrica occorreva cambiare il suo sistema produttivo per renderla meno pericolosa possibile. Se il nuovo governo dovesse prendere nuove decisioni noi saremo leali con le decisioni che il governo legittimo adotterà. Naturalmente nel caso in cui si decida di progressivamente, se ho capito bene, di chiudere la fabbrica, questo evidentemente deve avvenire con la salvaguardia assoluta dei posti di lavoro e con una prospettiva di ricostruzione di una vocazione economica della città che deve essere verificata di concerto con la regione. Il punto chiave che ha trasformato in tragedia politica la vicenda ILVA, almeno per quanto riguarda l'attuale governo, il governo ancora, spero per qualche giorno solo, in carica, è derivata dalla incapacità di gestire una relazione politica e sociale, con la comunità, con la città di Taranto, con la provincia di Taranto, con la regione. Questi errori di costruzione di una visione del futuro, questa visione così ridotta della vicenda ILVA, tutta basata sulla fabbrica, ha provocato, dopo la vicenda ILVA, che pure è finita malissimo, ha provocato questo ulteriore fallimento del governo in carica. Presidente, la parola riconversione sembrerebbe un po' incompatibile con l'acquisto da parte di ArcelorMittal. ArcelorMittal cosa compra? Una realtà che poi deve trasformarsi? Non credo che sia possibile, è come se io andassi a comprare una macchina da uno sfasciacarrozze. Ma guardi, il perché il ministro Calenda abbia giudicato questa gara proprio ad ArcelorMittal è ancora un mistero, tutti sapevano... Io dico interessi personali, ma io sono cattivo. Tutti sapevano che Mittal avrebbe superato la massima quota possedibile in Europa e che quindi ci sarebbero stati problemi molto grossi. C'è una vicenda, per esempio, quella della presenza nell'accordata Mittal di Marcegaglia. Marcegaglia ha un debito verso ILVA di circa 250 milioni e il fatto stesso che un'azienda che ha un debito pretendesse di comprare il suo creditore assieme a Mittal per assicurare peraltro l'italianità dell'accordata è veramente una cosa singolare. E il perché il ministro Calenda abbia deciso di assegnare l'azienda ad una accordata che sapeva che non avrebbe potuto acquistare perché avrebbe dovuto prima fare una serie di dismissioni industriali, questo rimane un mistero. Ma vedrete che la storia o le autorità competenti prima o poi lo accerteranno. Intanto, devo dire, abbiamo registrato, abbiamo verificato tutti una inversione a 360 gradi da parte del sindaco Melucci. Da quando usò un'espressione forte, bella, Taranto non deve essere stuprata, ora vediamo una linea comune con Calenda. Forse aveva ragione il filosofo Eraclito, Panta, Rei, tutto scorre e il Melucci di ieri non è più il Melucci di oggi. Vabbè, questo adesso non spetta a me dare giudizi. Quello che posso dire è che qualunque cosa accada, io sarò sempre come mio dovere e come devo dire sento di fare. Al fianco della città di Taranto, dei tarantini, rispetterò le istituzioni della città e cercherò di collaborare con tutti coloro che mostreranno correttezza e lealtà. Quindi, adesso, al di là del disappunto e del dolore mio personale, c'è il mio desiderio comunque di lavorare per Taranto con tutte le mie energie, cercando di rispettare soprattutto la salute delle persone e la volontà dei cittadini della città.